I supermercati italiani non garantiscono il benessere dei polli. A rivelarlo è essere animali, dopo aver avuto conversazioni con i leader della grande distribuzione organizzata tra il 2022 e il 2024, tra gli obiettivi delle interlocuzioni, la denuncia delle condizioni del bestiame detenuto negli allevamenti intensivi e le opportunità dello European Chicket Commitment. Eppure, secondo il report, supermercati italiani, impegni e trasparenza per i polli, Aldi, Bennett, Conad, Coop, S. Lunga e Gruppo Selex fanno poco o nulla per gli animali destinati a diventare bistecche, cottolette e polpette. Proprio per questo le pagelle basate su valutazioni personali dell'Associazione Ecologista Italiana rimandano a settembre tutti i supermercati dello stivale. Tre criteri di giudizio, la qualità delle conversazioni con i colossi della grande distribuzione organizzata, la proattività per trovare soluzioni agli orrori degli allevamenti intensivi e l'impegno concreto per una reale sostenibilità ambientale. A provare una rivoluzione rispettosa della dignità del bestiame sono invece Carrefour, Cortiglia ed Italy. Ci aspettiamo però che tutti i supermercati italiani inizino a impegnarsi quanto prima per un reale miglioramento delle filiere a vantaggio sia dei polli sia dei consumatori, sottolinea Elisa Bianco, responsabile Corporate Engagement di Essere Animali.